Signorina Georgina Silva Jiménez Lei ammette anche di aver portato con sé una FN Baby con cui intendeva uccidere il suo fidanzato Lo ammetto Mi consenta di aiutarla So che le chiavi del suo appartamento sono sotto custodia del tribunale Vado io Che profumo sta usando? È sapone Non è rimasto niente Le giuro che mi fa quasi pena Prima diventa matta Uccide il suo amante Non mi sembra che sia pazza Credo faccia finta Stai occupando il posto di un'altra persona Un'altra persona Un'altra persona Grazie.